Buongiorno telespettatori di Nettuno TV, canale 99, buongiorno anche a chi ci segue in streaming NettunoTV.tv Dunque è caduta la roccaforte rossa di Imola che è passata nella notte nelle mani del Movimento 5 Stelle C'erano già poche speranze dopo il primo turno per la candidata del centro-sinistra che di fatto, diciamo così, aveva già portato a casa un po' tutto ma ecco le immagini contenti invece soddisfatti di Emanuela San Giorgi Centro-sinistra, pensate, dopo 73 anni non governa più Imola a mandarla capò è, come detto, il Movimento 5 Stelle prima sindaco della donna, tra l'altro della città consigliera comunale uscente responsabile del patronato Will la 46enne San Giorgi ha battuto la rivale Carmen Cappello portandosi a casa, pensate, nel ballottaggio il 55,44% dei voti una svolta epocale che sa di impresa perché Imola ha così cessato di essere la roccaforte considerata invincibile sia per il fortissimo radicamento del partito sia per la presenza di moltissime grandi cooperative che per anni sono state una forma di finanziamento e di creazione di consenso per lo stesso centro-sinistra, afferma San Giorgi salita in comune ieri scortata da alcune decine di simpatizzanti alla grido tutti a casa non ho paura anche se so, ha detto la neosindaco di Imola che il percorso sarà in salita e pieno di difficoltà ma un po' alla volta le supereremo insieme sempre per il bene degli imolesi e sappiamo che il centro-sinistra ha perso altre roccaforti non solo Imola in Emilia-Romagna ma ha perso anche Pisa, Siena, in Toscana quindi di fatto le due regioni, Emilia-Romagna e in modo particolare la Toscana sono state in qualche modo ridisegnate forte il consenso che ha avuto anche il centro-destra ma anche il centro-destra ma è il Movimento 5 Stelle che invece è andato a prendersi la città di Imola e proprio questa mattina, poco fa il nostro Giacomo Bianchi ha incontrato il sindaco di Bologna, Virginio Merola che è partito da Imola per fare un ragionamento generale probabilmente sul partito e sul centro-sinistra sentiamolo La luna di miele non è mica ancora finita del nuovo governo c'è una forte domanda di cambiamento che prescinde da come si è governato questo come linea di tendenza nazionale Imola è rientrato in questo trip in questa visione che poi questa richiesta di cambiamento sia un cambiamento vero appunto bisogna attrezzarsi per dimostrare agli elettori e ai cittadini che più che un cambiamento è un grande passo indietro rispetto all'Europa rispetto ai temi di giustizia sociale del nostro paese e alla condizione dei lavoratori perché questi vogliono come sapete fare la flat tax non diminuire le tasse sui lavoratori la flat tax significa dare soldi ai ricchi volevano fare il reddito di cittadinanza dandolo a tutti in pratica la proposta che non riescono a fare perché non ci sono i soldi al momento è quella del reddito di inclusione dell'Emilia Romagna e del governo Gentiloni ci vuole il tempo perché queste cose siano chiare oggi l'onda è a loro favore ma rimarrà a loro favore se la sinistra continua a dire ho perso e non aggiungere né perché e come reagire ecco questo sì io rispetto il voto degli elettori quindi non temo nulla la città metropolitana di Bologna è l'unica che funziona in Italia quindi aperto al dialogo con tutti e con tutte le posizioni differenti vedremo sarà una discussione di merito ma immagino soprattutto istituzionale non nell'interesse di tutti i cittadini non delle singole fazioni Bologna fino al 2021 assiste a queste disfatte però non assisteremo passivamente ecco questo sì ci potete contare la lenda dell'enda est beh se si risolvesse tutto cambiando un nome direi che abbiamo già dato ecco il mio nome come sapete è Giulio Coniglio perché almeno piace ai bambini detto questo prima del nome bisognerebbe discutere un attimo di contenuti più che un attimo quindi ci deve essere questa benedetta assemblea del partito democratico che deve definire la data di un congresso io comunque penso che non sia sufficiente questo il PD ha soglia zero adesso è il momento di parlare a tutti e di costruire con tutte le persone disponibili una nuova prospettiva e cominciare a costruire a ripartire dalle città un movimento per l'alternativa alle destre lasciamo la pagina della politica si avvicina all'anniversario di quello che accadde nei cieli sopra Ustica ovvero il 19 Italia che fu abbattuto era il 27 giugno del 1980 attorno al museo l'insieme delle iniziative culturali che è promosso dall'associazione Parenti delle Vittime della Strage di Ustica in occasione del 38esimo anniversario della strage ai microfoni della nostra Francesca Bolognini c'è Veronica Ceruti dell'istituzione Bologna Musei che ci racconta un po' quali iniziative ci saranno sentiamola il Dipartimento Educativo del Mambo ha partecipato a questo progetto di rete con il tema come tema centrale la memoria e il viaggio che ha visto coinvolti oltre Mambo il Teatro Testoni i cantieri Meticci e le scuole della città tra cui il Sabine Rosa Luxemburg le Aldini Valeriani e il compito di Mambo diciamo è stato quello di realizzare attraverso un ciclo di laboratori insieme agli studenti ad un gruppo di studenti delle scuole secondarie di secondo grado la decorazione di quell'autobus di Tiper che Tiper gentilmente ha offerto e quindi abbiamo lavorato con i ragazzi proprio sull'idea di arte memoria e di comunicazione visiva quindi di come i linguaggi artistici e gli artisti siano anche impegnati soprattutto in tutti i periodi della storia dell'arte ma soprattutto in ambito nei nostri tempi e giorni nostri siano impegnati anche a portare alla luce a sensibilizzare l'opinione pubblica su determinate tematiche per cui il compito è stato un compito anche molto gratificante e stimolante per i ragazzi perché sapere che è un autobus che sta già girando in questi giorni in città e che tutti vedono e alcuni di loro utilizzano quotidianamente è stato proprio realizzato da loro è stato motivo per loro di grande motivazione per cui insomma chiaramente attraverso lezioni di storia di filosofia di arte e poi di computer grafica si è arrivati a sviluppare quell'immagine che avete visto nell'autobus sparchiaggiato qui fuori ed era presente anche la presidente della situazione dei parenti delle vittime della strage di Ustica Daria Bonfietti che torna a parlare della vicenda ancora al microfono di Francesca Bolognini no qui si sa tutto ed è proprio per quello che è grave che non si vada avanti perché se non si sapesse dove vado a cercare chi cerco no oggi si sa o americani o francesi erano nel cielo non c'è molt'altro da dire allora io chiedo tutti gli anni come sapete uno sforzo diplomatico uno sforzo politico ben maggiore affinché alla verità finalmente si possa arrivare non credo ci siano altri mezzi aggiungo soltanto che so che la magistratura come dirò in questi giorni in altre sedi sta continuando a lavorare pensate dopo 38 anni dopo le dichiarazioni di Cossiga del 2008 che hanno permesso la riapertura delle indagini quindi la Francia è stata coinvolta con rogatori eccetera dopo le dichiarazioni di un marinaio americano che dice che è salito quella sera quella notte ha abbattuto due aerei due miglibici come il suo comandante gli aveva detto di fare e quindi ha eseguito la consegna positivamente ecco tutte queste cose riportano come sempre a capire che quello è lo scenario quello è il luogo dove è potuto avvenire per errore anche l'abbattimento di un aereo civile ma questo vuol dire che i magistrati continuando ad andare avanti non chiudendola questa questa parte del loro lavoro che invece sembrava dovessero chiudere per questo che vado avanti entro quest'anno mi dicono che non chiudono e mi fanno capire che hanno altre cose quindi io credo che davvero lentamente finché volete ma ci si stia proprio arrivando a scriverla tutta anche l'altro pezzo di verità e adesso parliamo di maltempo perché se Bologna questa mattina ha conosciuto la pioggia e anche temperature sotto i 20 gradi quindi un cambio notevole poi nel pomeriggio ci sarà un miglioramento e per la settimana è previsto il ritorno del sole con l'inalzamento anche delle temperature questa mattina invece abbiamo avuto a dimostrarvi anche alcune fotografie davvero spettacolari una tempesta di pioggia e vento si è abbattuta sulla riviera romagnola dell'Adriatico in modo particolare a largo di Cesenatico ecco guardate cosa è successo un po' da tutte anche le località del ritorale il cielo è diventato improvvisamente scuro e dalla costa sono state avvistate due trombe marine questa è quella di dimensione decisamente notevole sulla spiaggia era stato dato poco prima l'avviso di chiudere gli ombrelloni per il forte vento in arrivo ma molte persone si erano allontanate dalla spiaggia in fretta mettendosi al riparo questo comunque lo spettacolo che si poteva vedere dalla spiaggia di Cesenatico guardate che razza di tromba marina davvero di notevolissime dimensioni torniamo alla cronaca adesso aveva forzato il lucchetto della catena di una bici legata ad una rastrelliera e stava allontanandosi con la stessa bicicletta così un 52 anni è stato sorpreso e arrestato in flagranza da tre agenti del reparto sicurezza della polizia municipale di Bologna l'uomo un cittadino italiano ma con una sfilza di precedenti è finito in manette la bici è stata restituita al suo proprietario un 32enne cittadino nigeriano è successo qualche giorno fa l'intersezione fra via Mendola e viale Pietramellara nei pressi della stazione ferroviaria di Bologna i tre agenti borghese hanno notato l'uomo piegato su una bicicletta armeggiare sulla chiusura e pronto ad allontanarsi lo hanno bloccato trovando anche in suo possesso una tronchese quattro chiavi a Brugola è anche una chiave inglese e adesso invece parliamo delle ACLI è stato presentato il primo bilancio di missione delle ACLI provinciali di Bologna sentiamo cosa è emerso da Filippo Diaco che ne è il presidente al microfono di Giacomo Bianchi oggi è un'occasione importante per noi è in qualche modo una scommessa che abbiamo messo in campo e che attraverso i numeri vogliamo raccontare quello che le ACLI hanno fatto nel 2017 oltre 80 volontari dell'associazione che si sono davvero attivati in percorsi seminari su tutta la città e non solo la città ma anche in tutta la città metropolitana abbiamo incontrato tantissimi cittadini ci siamo fatti carico delle loro spesso dei loro problemi delle loro insicurezze abbiamo fatto i corsi sull'empowerment corsi di formazione sulle politiche del lavoro abbiamo dato una maggiore attenzione al tema anche della famiglia questo è quello che abbiamo voluto lanciare ma questo vuole essere anche un punto di partenza per delle ACLI e non fermarsi qui ma andare avanti ancora cercando di dare sempre delle risposte più forti a quello che sono oggi le attenzioni da parte dei cittadini ci sono tante problematiche all'interno della città che sicuramente ci devono stimolare a noi ACLI ma credo a tutto il terzo settore a tutti i corpi intermedi che ci sono sulla città di Bologna oggi abbiamo bisogno di creare un asse forte fra il terzo settore perché siamo realmente un corpo intermedio che cerca di dare le giuste risposte a tutti i cittadini mi sembra di capire che ci sia soddisfazione però l'obiettivo per il 2018 ovviamente è quello di continuare a crescere assolutamente non parliamo di numeri di tessere ma parliamo di numeri su quello che sono le persone e le famiglie lo stiamo facendo anche nel 2018 cercando di dare risposte concrete sono in tanti i cittadini che spesso ci interpelano ci invitano a essere presenti anche sui territori nei quartieri perché ci sono tante problematicità e credo che un'associazione come la nostra oltre a dare dei servizi attraverso i servizi di caffè di patronato deve anche essere all'ascolto di queste persone e adesso apriamo la pagina culturale Andrea Romeo direttore artistico del Biography in Festival prenderà in gestione il Medica Palace ma è anche il Cinema Jolly di Bologna i nostri microfoni ha spiegato il progetto per i prossimi mesi ha fatto anche un bilancio dell'edizione 2018 di questo Biography in Festival che si è chiuso il scorso 21 giugno a Bologna lo sentiamo al microfono di Giacomo Bianchi sono molto contento di lavorare su queste due strutture del centro di Bologna sono due cinema straordinari con un grande potenziale il Cinema Jolly di Via Lame e Via Marconi è un cinema come dire abituale per molti bolognesi il Cinema Medica è la più grande sala del centro di Bologna oltre 800 posti uno schermo senza paragoni in Emilia Romagna e la possibilità di essere il cuore anche di una festa legata al cinema e alla possibilità di vedere i film bene in anteprima tutti assieme su un grande schermo in una bella in una bella sala facciamo un bilancio anche sul Biografin Festival 2018 il festival è stato elettrizzante una grande sfida anche qui sulle sale è stata quella di arrivare oltre diciamo la cintura del centro storico e arrivare all'Orione al Galliera all'Antoniano in tre sale della comunità molto molto belle molto partecipate ognuna dal suo del suo quartiere con dei contenuti unici come è stato l'incontro con Peter Greenaway o l'incontro con Romeo Castellucci e credo che sia stata la sfida più grande di Biografi in quest'anno non solo e non tanto ovviamente quella di rinnovare un pubblico di accreditati di addetti ai lavori di appassionati e follower che seguono la manifestazione nelle sale abituali ma quella di conquistare anche nuovi nuovi pubblici in città è un primo passo siamo molto contenti ci rimetteremo presto a lavorare sulla prossima edizione e adesso parliamo della fondazione Cineteca Gianluca Farinelli che è il direttore ha ragionato insieme a noi sulla grande offerta culturale che caratterizza ancora oggi la città di Bologna andiamo a sentire l'intervista Bologna è una città in cui la cultura ha un ruolo importante del resto le cose credo non accadono mai per caso se qui è nata la più antica università dell'Occidente perché c'è da molti secoli un territorio che sa valorizzare la cultura e quindi l'università ma mi sembra che anche nelle attività economiche qui le grandi aziende che hanno fatto successo sono quelle proprio che hanno saputo sfruttare al meglio la cultura del sapere e quindi il cinema nella nostra città è importante importante per la sua storia grandi registi che qui sono nati da Zorlini a Avati a Pasolini a Giorgio Diritti ma anche per quello che si sta muovendo ora e noi come Cineteca portiamo qualcosa che è tutta la storia del cinema il cinema del presente e il fatto che vengano degli studenti da tutto il mondo per approfittare di questa cornucopia della storia del cinema che è il cinema ritrovato ci inorgoglisce molto per quanto riguarda il cinema in Piazza Maggiore ormai è un punto di riferimento importante non solo per la città ma per chi proprio decide di venire a visitarla bisogna rimanere lì ci sono uscite magari un po' di polemiche sul fatto di spostarla rimane lì perché è un punto di riferimento essenziale Piazza Maggiore è un luogo straordinario che nei 56 giorni delle proiezioni del sottostello del cinema del cinema ritrovato è quello che è una grande piazza è un luogo di incontro è un luogo dove si incontra la cultura è un luogo del ritrovato piacere dei cittadini che riconquistano questo questo luogo così così particolare è unico l'intervista era del nostro Mario Giulianti adesso parliamo invece di Conf Cooperative di quella che ha presentato ha sostenuto è promosso la presentazione di una guida presentata a Parma una guida italiana sulle abbazie scusate sui siti Cistercensi andiamo a sentire l'intervista di servizio grande successo a Parma per la presentazione della prima guida italiana delle abbazie Cistercensi più di 100 persone hanno presenziato all'evento che si è svolto nella splendida cornice dell'abbazia di Val Serena Paradigna prestigiosa location in cui si trova il centro studi e archivio della comunicazione dell'Università di Parma e dove ha debuttato ufficialmente la nuova associazione italiana dei siti e delle abbazie Cistercensi la pubblicazione promossa dall'associazione culturale Giuseppe Micheli di Conf Cooperative Parma e dal comune di Morimondo consentirà all'Italia di rientrare a pieno titolo nel percorso delle abbazie Cistercensi già riconosciuto e finanziato dall'Unione Europea parte un prodotto culturale turistico che sapevamo di avere o meglio che avevamo ma che non sapevamo di avere in quanto l'Italia ha oltre 400 abbazie Cistercensi l'Unione Europea riconosce questo come un prodotto turistico e culturale lo finanzia ma c'è una rete europea già ufficiale in Italia però ognuno andava avanti per la sua strada oggi si presenta un libro si presenta una ricerca e si dà vita quindi a un prodotto turistico in quanto nelle prossime settimane partirà questa rete un'associazione nazionale proprio delle abbazie dei siti turistici che si collegherà alla rete europea e quindi potrà favorire lo sviluppo insieme di tutta questa nostra ricchezza storica come Conf Cooperative siamo molto contenti di questa iniziativa perché per noi rappresenta un momento importante sia di promozione dei beni culturali e dei beni culturali ecclesiastici ma anche di promozione turistica più in generale crediamo insomma che questo tipo di prodotto sia una spinta per andare avanti in questa direzione che sia il primo passo per un'azione turistica più incisiva che metta insieme tutti i nostri beni sia nella regione ma anche fuori dalla regione e ci dia la possibilità di collegarci a quella che è la realtà europea nel suo complesso allora io in chiusura vi ricordo che mercoledì sera dopo domani 27 giugno saremo con il nostro camper di Nettuno TV la Notte Bianca di Via Andrea Costa un appuntamento che come sempre vedrà 20-25 mila persone noi saremo lì con la nostra diretta televisiva ormai la presenza del camper di Nettuno TV è un dato di fatto vi ricordo anche che al termine di questa edizione potrete invece vi presenteremo la bella realtà di Palazzo Lupi in Appennino con cui collaboriamo nel progetto camper di Nettuno TV in Appennino grazie al coordinamento tecnico per questa edizione affidato a Filippo Patti grazie a voi che ci avete seguito un buon proseguimento